Tragedie nella stazione carabiniera di Asso, brigadiere spara e uccide il comandante, in ostaggio anche una militare di Francofonte. All'interno della stazione carabiniera di Asso, nel Comasco, nel momento in cui si consumava il dramma dove il brigadiere Antonio Emilia, con disagi psichici, aveva ucciso il suo comandante, il luogotenente palermitano Dariano Forceri, di 58 anni, fra gli ostaggi c'era come ostaggio anche una donna carabiniera di Francofonte, Giulia Scalone. La militare sracusana è rimasta prigioniera del collega Emilia, poi arrestata, ed è fortunatamente scampata ai colpi di pistola esplosi nella stazione carabinieri. A rendere nota la vicenda, a rendere l'omaggio, è stato il sindaco di Francofonte, Daniele Lentini, con un post pubblicato sulla pagina Facebook del Comune. Il sindaco e l'amministrazione comunale si leggono il messaggio, si congratulano con il legione carabinieri Giulia Scalone, nostra concittadina, per il coraggio da lei dimostrato durante le drammatiche one che l'hanno coinvolta giovedì nella stazione carabinieri di Asso. Dopo aver sparato al maresciallo con la propria pistola d'ordinanza, un brigadiere si è barricato in caserma insieme ad altri colleghi, tra cui Giulia e familiari. A lei in particolare si deve riconoscere la lucidità con cui ha saputo gestire le lunghe e drammatiche ore mettendo al primo posto la salvaguardia delle vite umane e di tutti i soggetti coinvolti. Un abbraccio a Giulia e complimenti per il forte senso civico e istituzionale.